Ma che bello, raga, ma dove siamo finiti? A Disneyland, c'è pure Ichiran! Stupenda questa zona commerciale al coperto, dovremmo esserci Ma siamo sicuri? È questo qua? Permesso Questa sistemazione è una figata pazzesca Ma poi si sta stracomodi qua dentro, pensavo fossero molto più piccole le capsule Già i miei piedi non arrivano nemmeno in fondo, c'è anche spazio per i bagagli Bull, un tavolino, prese elettriche, tutti i vari divieti, televisione E qui dentro c'è anche un piccolissimo armadietto Qua ci sono soltanto una e due capsule occupate È una svolta questo posto, c'è anche la palestra e tutta la parte tipo manga, caffè La prima cosa da fare è togliere le scarpe e metterle via Al check-in ti forniscono una chiave per il tuo armadietto con il numero del tuo loculo All'interno della zona colombari, ovvero la zona notte, ci starebbero tante persone Tutti uomini, è solo maschile Ma stasera i letti occupati sono pochi Le comodità non mancano È tutto super pulito e silenzioso Costa poco ma c'è un però Le docce sono nell'area onsen dove i tatuaggi non sono ammessi Come faremo a lavarci? Ti immagini che abbiamo appena prenotato la seconda notte in questo capsule Senza averci mai dormito E stanotte sarà un inferno, non riusciremo a riposare perché russano tutti In realtà si dormiva benissimo, abbiamo fatto bene a prolungare il soggiorno Figata pazzesca, tra i capsule hotel che ho visto nei miei viaggi in Giappone Questo è indubbiamente quello più bello Non vedo l'ora di dormirci Anche perché ho un gran sonno Però adesso sto facendo un giretto, ribecco gli altri C'erano 38 gradi lì dentro È una capsula sauna Io non ci volevo venire nella sala giochi Dovrei andare a dormire, sono in piedi dalle 4 Non l'ho filmato perché ogni tanto mi diverto anche senza filmare Il gatto salmone, l'ho vinto Mi è costato soltanto 12 euro però va bene L'ho vinto Non me ne sarei mai andato a questa sala giochi senza vincere un regalino Il gatto salmone Questo posto è una rovina perché puoi pagare con la tessera dei mezzi Con le carte di credito Zio ti ricordo che siamo in giro soltanto con uno zainetto Dove hai intenzione di metterlo nel remoto caso in cui lo vinci Voglio prendere il cavallone Ma non è possibile Vabbè comunque amici ben ritrovati sul canale per il secondo episodio del Giappone alla bersagliera Oggi vi portiamo con noi alla scoperta dei luoghi nei quali si è abbattuto il disastro di Fukushima Preparatevi perché sarà una puntata interessantissima Che è stata supportata dal magico sponsor di oggi Ma tu vorresti accedere a un wifi del genere senza avere attivo NordVPN Che protegge i tuoi dati personali Io no Autogrill in Marocco Aeroport in giro per il mondo Quei caffè in cui trovi la gente che lavora col portatile Eppure quando sono a casa Tengo la mia connessione ad internet sempre protetta grazie a NordVPN Che trovate linkato qua sotto in descrizione Miglior offerta disponibile al momento E sempre 30 giorni di prova gratuita soddisfatti o rimborsati Così se lo provate e non vi trovate bene vi ridanno tutti i soldi Semplicissimo da utilizzare Velocissimo Ti puoi connettere in un battibaleno ad un server italiano quando sei all'estero O ad un server di un altro paese quando sei in Italia Aggirando così le georestrizioni Per avere più film e serie tv a disposizione nei tuoi servizi di streaming O per verificare che il prezzo di qualcosa che stai prenotando o comprando Non vari a seconda del luogo del mondo in cui ti trovi Se usate in maniera furba ti fa risparmiare E soprattutto supporta la produzione video del canale Quindi vale la pena di dare un'occhiata ai link che vi lascio qua Grazie a chi lo farà Grazie a NordVPN E buona continuazione del video Buongiorno amici Ho una fantastica giornata di sole qui a Sendai Abbiamo dormito poco Ma molto bene Sono dovuto andare a fare la doccia mega presto Nascondendomi come un ladro Perché altrimenti mi vedevano Quei tatuaggi Non volendo urtare la sensibilità di nessuno Dato che si sta tutti nudi tutti assieme Sono andato quando nessuno mi poteva vedere Il piano per la giornata di oggi È quello di visitare la zona di esclusione Attorno alla centrale nucleare di Fukushima Se vi ricordate nell'episodio precedente Siamo passati da Fukushima Ma la centrale si trova sul mare E per raggiungerla saremmo comunque dovuti passare da Sendai Soltanto che arrivare in quella zona Come potete immaginare Non è affatto facile con i mezzi Infatti dopo un paio di cambi Ci siamo ritrovati davanti ad un treno cancellato E siamo stati costretti a cercare di convincere Un tassista A portarci nella nostra prima tappa Ovvero Namie Con l'aiuto del traduttore ci siamo fatti capire E in questo momento amici stiamo per visitare Ciò che rimane di uno degli edifici Più duramente colpiti Dal maremoto dell'11 marzo 2011 Essendo qui molto vicini al mare Si tratta di una scuola Che è stata evacuata poco prima che arrivasse lo tsunami E l'onda di maremoto quando è investito la scuola Era molto alta Lì in alto è segnato Con quel cartello Il livello dell'acqua Che raggiungeva abbondantemente il secondo piano di un palazzo La scuola però è ancora in piedi Adesso entriamo Comunque tranquilli Che quella che stiamo per fare Non è un'esplorazione illegale Non questa almeno La scuola è visitabile Ciò che è rimasto in piedi È stato poi messo in sicurezza Per far sì che diventasse un luogo In cui vedere con i propri occhi E ricordare cosa successe quel tragico giorno Qui c'è dipinta una mappa Di tutta l'area Non riesco a farvi capire dove ci troviamo Perché è tutto scritto in giapponese Però se questo qua è il porto Noi ci troviamo in questa zona più o meno Questi qua sono gli scomparti Dove i bambini mettevano le scarpe Che toglievano qui Il vento è molto forte In questa parte dell'edificio Perché logicamente non ci sono più vetrate Ci sono delle correnti d'aria fortissime Gli scalini sono tutti numerati E così i bambini erano facilitati All'apprendimento dei numeri in inglese Ci sono le pareti che cadono a pezzi E tutto il metallo completamente ricoperto di ruggine Perché l'acqua del mare salata Arrivava fino a qua Siamo al secondo piano Fa impressione pensare a quanto poteva essere Potente e alta L'onda che ha investito la scuola Qui ci sono dei bagni Bassissimi Perché questi qua sono lavandini per bambini E credo che sia rimasto tutto così com'era Perché lì dentro c'è ancora il sapone Ci sono addirittura dei laboratori Cioè delle classi vere e proprie Ma in questa parte dell'edificio Che si è salvata un pochino di più Hanno installato una specie di mostra Che ti fa vedere com'era questa zona prima dell'arrivo dello tsunami Ed è assurdo pensare che qui attorno erano tutte case Quando siamo arrivati e quando ci siamo fatti scaricare qui dal taxi Io sono rimasto colpito dal fatto che non ci fosse assolutamente niente Prima era pieno di case Sono state completamente spazzate via dalla forza del mare Se guardate questo plastico A parte le foto della scuola immersa nel nulla Perché l'acqua si è mangiata via tutto Ma se guardate questo plastico Cioè vedete proprio tutte le case Che da un giorno all'altro Da un momento all'altro sono sparite Gente che abitava qua da una vita Ha visto la propria casa scomparire nel nulla Così nel giro di un'onda Sentite il vento quanto sta soffiando Comunque in queste vetrine ci sono dei trofei Che probabilmente sono riusciti a recuperare Dopo che il livello del mare è tornato alla normalità Le acque si sono ritirate E poi ci sono varie fotografie della scuola Delle classi, dei bambini Tutto in attività, la normalità prima del disastro In questo momento noi ci troviamo Diverse decine di chilometri lontani Da quello che è stato l'epicentro del terremoto sottomarino Che ha scatenato il maremoto Però da questa mappa che c'è qua Si capisce quanto invece siamo vicini Alla centrale nucleare di Fukushima Siamo a meno di 6 chilometri in linea d'aria La centrale di Fukushima è a circa 5 chilometri e mezzo Lungo la costa a sud rispetto a noi in quella direzione Tutta quest'area è stata evacuata tempestivamente È stata rasa al suolo dall'onda E qui non è potuto più tornare nessuno Perché questa era la zona di esclusione Tutta quest'area è stata abbandonata Anche per via delle radiazioni Se adesso guardi fuori dai confini della scuola Vedi solo questa distesa di erba secca Erano tutte case Infatti mi sembrava troppo strano Che ci fosse una scuola così grande In mezzo a nulla Perché venendo qua abbiamo fatto un bel po' di chilometri Senza incontrare anima viva Infatti il tassista che ci ha portato qui Era molto stranito dal fatto che volessimo Cioè tre occidentali che vogliono arrivare proprio qua E non so se riusciremo a trovare un altro taxi Ma andiamo a vedere il piano terra dell'edificio Prima di capire come ci sposteremo da qui Penso che tutti ricordiamo le immagini trasmesse in Italia Del Giappone devastato dalla potenza del grande terremoto del Tohoku Dalla spaventosa magnitudo 9 Che per via degli tsunami ha causato almeno 20.000 vittime nel Giappone orientale E poi la paura dell'incidente nucleare I sopravvissuti che hanno perso tutto Le loro case, i loro cari Un paese letteralmente in ginocchio E fidatevi che anche a distanza di 12 anni Vedere dal vivo ciò che rimane Mette davvero tanta angoscia Sono rimasti anche dei computer portatili Guardate il pavimento Che si è alzato tutto Soffitto crollato Quella tastiera completamente arrugginita Gli edifici sono davvero immensi Non pensavo Camminare per i corridoi della scuola Osservando ciò che rimane E cercando di immaginare come era prima Quando era ancora un luogo brulicante di bambini Da questo senso di sconforto L'atmosfera è proprio spettrale Perché adesso l'unica cosa che riesci a sentire È il rumore del vento Sapete che i luoghi abbandonati mi affascinano molto E nella mia vita ne ho esplorati davvero tanti Però questa è la prima volta che vedo un luogo Che è stato abbandonato a seguito di un disastro naturale Ed è un qualcosa di completamente diverso Comunque gli altri in qualche modo Sono riusciti a far arrivare un taxi Quindi ci spostiamo verso la prossima destinazione Sperando che ci sia meno vento Oggi in taxi stiamo spendendo una fucilata Comunque ci siamo fatti accompagnare Nella vicina stazione di Futaba Ci sarebbe voluto troppo tempo a piedi Quindi abbiamo fatto bene a prendere il taxi La stazione oggi è in attività In teoria Cioè ci sono anche delle persone dentro Abbiamo chiesto un attimo informazioni E qui intorno non c'è nulla Se vogliamo passare la notte Venendo qua abbiamo incrociato tantissimi edifici abbandonati Tutto abbandonato per via del pericolo delle radiazioni Mi diceva Reda che nel 2022 a gennaio Hanno iniziato la ricostruzione Questa zona, la zona di Futaba È di nuovo abitabile Per noi in teoria è sicuro venire qui Nel dubbio non toccherò niente Per abbellire un pochino i pochi edifici che sono rimasti Hanno deciso di creare questi murales Che compongono il Futaba Art District Quando vieni qui è tutto molto desolato Però a tratti è anche bello colorato Comunque tutto attorno a noi è pieno di case abbandonate C'è Duccio che sta parlando con la polizia La vigilanza Questo è un parrucchiere abbandonato Benzinaio Vedi che in Giappone ci sono le Vedete ci sono le pompe di benzina che callano dall'alto Fa venire in mente quando ho girato tutto il Kyushu in macchina Sono abbastanza incredulo Febbraio 2022 Iniziano a tornare le persone a Futaba La popolazione del posto prima era zero Vivere qui torna possibile E quindi qualcuno decide di ritrasferirsi Per quelle pochissime persone Hanno rimesso in funzione la stazione dei treni Da me le stazioni le chiudono I giapponesi invece che ci tengono tantissimo Alla loro rete di trasporti Per prima cosa fanno ripartire proprio la stazione dei treni Ci guardavano tutti straniti Perché effettivamente quante persone Soprattutto occidentali Prenderanno il treno da A o per Futaba Una macchinetta abbandonata Con il Q Questa è la confezione di Q Di dieci anni fa Di dodici anni fa L'Aquarius Ovviamente non funziona No ma ragazzi Ma è pazzesco Siamo all'interno della stazione dei pompieri Di Futaba abbandonata C'è dentro ancora tutto Se mi vedono qua dentro sono guai Però io vorrei guardare di là Mamma mia mi trebano le mani È assurdo essere qua Cioè mai mi sarei aspettato di vedere una cosa del genere Questo non è di certo il Giappone Che sono abituato a farvi vedere Ma poi guardate qua ci sono ancora i caschi Ci sono Ah questo qua è È tipo È una stufa Stavano tutti seduti attorno alla stufa Il televisore I quadri Mamma mia Quelle ritratte in questa foto Sono le persone che probabilmente hanno Rischiato la loro vita O addirittura ha perso la loro vita Per salvare quella degli altri Durante il disastro Però di qua c'è altra roba Dai andiamo Non riesco a passare Ok Guardate che roba Ok siamo fuori Dovrei anche recuperare gli altri a un certo punto Perché tra poco andrà giù il sole Chissà dove sono E questa è tutta l'area di essere Un'abitazione tradizionale giapponese E questo è ciò che rimane delle pareti di carta Tipiche delle case in Giappone Questa in particolare mi sembra anche molto pericolante C'è davvero troppa roba all'interno Boh Sono partita una voce Dei suoni Non ho la più palida idea di cosa possa essere Né da dove provenga Comunque proseguiamo È tutto troppo strano Troppo surreale perché siamo letteralmente a due passi Dalla stazione Che è nuova In funzione Qua invece ci sono edifici abbandonati Con il tetto che mi arriva Alla testa Cioè ma Pensate Se voi Doveste tipo Come è successo anche in Italia Ad alcune persone che magari mi seguono anche Cioè mi vengono i brividi A lasciare indietro Gli album fotografici Tutti i propri ricordi Tutte le cose uniche che uno possiede Quelle cose che rendono il luogo in cui vivi La tua casa Gli album fotografici Ed ecco un'altra cosa Che non avevo mai trovato Durante le mie esplorazioni Attrezzi da palestra Guardate che roba Siamo nel giardino Della casa di qualcuno Al secondo piano di questa casa Bellissima tra l'altro Si vedono ancora i panni stesi Sono un pochino preso male ragazzi Perché quando queste cose Ti limiti a vederle nei telegiornali Cioè comunque sono distanti Poi quando sei qua Esperimenti questa botta emotiva Dal vivo Fidatevi che è pesante Mega paura Che possa succedere ancora una cosa del genere Speriamo di no Ah tra l'altro dietro Questo murale di un Daruma Coloratissimo Bellissimo Guardate questo edificio Più storico Che affascinante che è Anche questa abitazione Abbandonata Ma sembra messa molto meglio Rispetto a tante altre Quante persone sono venute a vivere qua? 15 persone su 7000 23 gennaio del 2022 Sono tornate qua a Futaba Il Giappone si riconferma Paese di grandi contrasti Perché le strade sono perfette Ma gli edifici sono in rovina La gente passa con le macchine Va avanti con la sua vita Ma la città È praticamente ancora tutta abbandonata 15 persone sono venute a vivere qui E io sono stato riempito Da 15.000 di questi aculei Di una pianta Che faceva da guardia Una casa dove ho tentato di entrare Quindi passerò la prossima metà Mezz'ora prima di prendere il treno Togliermi tutte queste spine di dosso Tra l'altro Reda mi diceva Che nel giro di Tre giorni Sei giorni Sei giorni hanno ricostruito Qualcosa tipo 813 chilometri di strade A parte che duccio vestito così Potresti anche sembrare uno Che lavora qua Se non fossi biondo Secondo me non era una scuola Secondo me sai cos'era Era un centro Queste vasche qua Mi sembrano quelle per la fisioterapia Tipo Si potreva essere tipo Un centro di riabilitazione Questa qui è una casa di cura per anziani Zio ma ci sono degli scivoli Cioè per andar giù Ha messo degli scivoli Non le scale Eh scivoli d'emergenza Ah qua perdiamo il treno Perdiamo il treno Se finisco di vedere quale Polizia Cambio di programma È alle 16 E che ore sono? Sono le 50 zio Oh ca Non ti ho mai visto correre così veloce Il prossimo è domani mattina Non c'è un hotel in tutta la zona Credo destra Con la polizia che a momenti ci becca Ah ci siamo ci siamo Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Siamo alla stazione Comunque probabilmente La polizia se mi avesse sgamato All'interno di quella Casa di cura abbandonata Non avrebbe neanche saputo Cosa fare Perché qua Cioè Quando è che hanno a che fare Con della criminalità in Giappone Che poi criminalità Su via Non ho fatto nulla di male Da che parte Qua Metterci a correre Per raggiungere la stazione È stato abbastanza inutile Non soltanto siamo sembrati Ancora più sospetti Agli occhi della polizia Che probabilmente stava pensando Che stessimo scappando da loro Ma una volta arrivati Abbiamo anche scoperto Che il treno Era in ritardo Non ci credo Il treno in ritardo Quello che i treni in Giappone Non facciano mai ritardo È un po' un falso mito Può capitare specialmente Se ti trovi nella zona Di esclusione di Fukushima Ma tanto meglio così Perché ho avuto il tempo Di togliermi un po' di spine Prima di tornare Verso Sendai Si torna alla modernità Ed efficienza E perfezione giapponese 13 Arrivati Siamo arrivati Siamo arrivati proprio Durante l'ora di punta Direi che adesso Ci mangiamo un velocissimo Boccone al combini Dato che siamo a digiuno Da questa mattina Zona di esclusione Di Fukushima Non abbiamo trovato molto cibo Direi zero Ma non è importante Perché l'esperienza di oggi È stata a dir poco Indimenticabile Infatti ragazzi Spero tantissimo Che abbiate apprezzato Il video Baci baci Dalla bellissima E vi dirò Anche abbastanza calda Sendai Scandaloso Non fa per niente freddo E siamo al 13 di gennaio Forse il 12 No 13 Grazie come sempre Per avermi tenuto compagnia Fino alla fine Ci vediamo lunedì alle 19 Con una nuova avventura